Parcheggio impeccabile, ora assicuriamoci di trarre il meglio dalla partenza. Tieni d'occhio i semafori, la sequenza di... Grazie a tutti! Ok, adesso concentriamoci per il resto della gara. Grazie a tutti. Attenzione, attenzione. IRS ora attivo. IRS ora attivo. IRS ora attivo. Ottima entrata. Sembra una sosta ok. Siamo felici con questo risultato. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione. Quella era l'ultima. Stagli sotto. Appena fa un errore ci riprendiamo la posizione. IRS ora attivo. IRS ora attivo. IRS ora attivo. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 30,3 secondi. IRS ora attivo. IRS ora attivo. IRS ora attivo. IRS ora attivo. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. IRS ora attivo. IRS ora attivo. IRS ora attivo. sandwiches ora attivo. Il distacco dalla vettura che ti precede è 5,3 secondi. Ok, vediamo se riusciamo a raggiungere il pilota davanti a te, a 5 secondi di vantaggio. Abbiamo carburetto sufficienza per soli 2 giri. Se è l'ultimo dia. Stai distanziando l'auto alle tue spalle a ritmo di tre decimi a giro. Stai distanziando l'auto alle tue spalle. Stai distanziando l'auto alle tue spalle. Ridurre il distacco di 5 secondi tra te e la vettura davanti.